Allora in merito soprattutto alle assunzioni, questo bilancio darà una spinta enorme perché c'è la possibilità di nuove assunzioni al completamento dei concorsi? Sì, sicuramente stiamo aspettando appunto, oggi facciamo l'adozione, settimana prossima faremo l'approvazione e ci consentirà finalmente di portare a termine le assunzioni che abbiamo fatto nel concorso in comune con il comune di Napoli. In città metropolitana arriveranno circa 160 nuovi dipendenti che saranno distribuiti secondo le richieste varie delle direzioni e poi nel giro di una trentina di giorni ci accingeremo ad approvare anche il nuovo piano del fabbisogno. Sicuramente non sarà importante come quello dello scorso anno che ci ha visto poter contare su circa 250 nuovi dipendenti, però proveremo a fare del meglio nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.